Parte, presenza, non c'è Ainz, bisogna... Chiamato, chiamato come al solito, una dimenticanza, un'amnesia della difesa triestina. Tornato in campo, pallone per Tarceschi che ha un po' di spazio, se lo prende tutto e questo vuol dire che il caver è tanta fiducia. Pallone un po' sporco qui per Baldasso che alla fine si deve prendere la tripla che però non va a bersaglio, a rimbalzo Tarceschi allo scadere dei 24 dopo aver lottato a rimbalzo e aver vinto nella lotta a rimbalzo con Levers. E' contentissimo di questo Schiltz ritrovato perché per l'economia del futuro dall'altra parte Tarceschi continua il suo mini show nella partita. Il blocco da parte di Daniels con la difesa a zona di Trieste. Altra palla sotto per Tarceschi che questa sera non ha la minima intenzione di sbagliare niente sul meno 10, Mitoglutiro cadendo indietro, sbaglia, rimbalzo di Tarceschi che è il più presente tra i presenti. Scivola ma tiene comunque il pallone Grant, palla sotto per Tarceschi, palleggio e canestra ancora di Tarceschi. Ottimo show da parte di Delia che poi deve rientrare su Tarceschi, palla alzata e Tarceschi stasera non sbaglia niente. Baldasso che va a cercare di prendersi, di rubare un po' di tempo. Stavo per chiederti secondo te chi sarà la MVP e direi che con questo canestro e con il ventello che va a cercare di prendersi. Stavo per chiederti secondo te chi va a cercare di prendersi.